Il team di 7 Motorsport Nasce a Rieti nel 2018 Negli ultimi due anni Ci siamo trasferiti qui a Latina Aprendo questa nuova struttura Che ad oggi è una vera e propria academy I ragazzi La mattina vanno a scuola Vengono accompagnati Frequentano la scuola normalmente Nel pomeriggio svolgono i loro allenamenti Sia fisici che in moto A seconda dei programmi che abbiamo Quest'anno abbiamo deciso di affacciarsi Un po' più nel panorama mondiale Prendendo parte al campionato europeo 125 E qualche tappa dell'EMX 250 A capo di questa struttura Ci sono io come team manager E Gianni Pegorilli Abbiamo il nostro istruttore tecnico Felice Compagnone Che ormai da più di un anno Segue i nostri ragazzi a tempo pieno Sia per quanto riguarda la parte sportiva Che anche la parte lavorativa Perché ci teniamo insomma Che i ragazzi imparino Imparino anche qualcosa E comunque a mettere A mettere le mani sui propri mezzi Quest'anno oltre al viveglio Dei più piccoli Diciamo i piloti junior Che faranno Prenderanno parte I vari campionati nazionali E regionali junior Abbiamo diciamo La parte prestige I nostri piloti Che frequenteranno I campionati I campionati più importanti d'Italia Abbiamo nella MX2 Fast Abbiamo Giuseppe Zangari Nella 300 Prenderà parte Prenderà parte La categoria 300 In MX1 Lorenzo Pecorilli E per quanto riguarda la Lugisca Abbiamo Alfio Pulvirenti E Cesar Paine Di Enzo Il nostro ragazzo cileno Abbiamo anche una ragazza Quest'anno Che prenderà parte Al femminile Che è Clarissa Tognaccini Giordano Battistone Nella 125 senior Insieme a Palombini Fabio Massimo Palombini Andrea Mura Che purtroppo ora è fuori Per un infortunio E a questo campionato Prenderà parte Anche Oltre alla 300 Prenderà parte Alla 125 senior Lorenzo Pecorilli Allora Quest'anno Abbiamo iniziato Con gli internazionali d'Italia Non sono andato Un granché Però insomma Abbiamo fatto Tanta bella esperienza E quest'anno Parteciperò All'italiano Prestige E partiremo Per cercare Di portarci Il titolo a casa Stiamo lavorando Tanto Insomma Col team Mi trovo molto bene Sia con la moto Con l'allenatore Felice compagnone E insomma Tutta la squadra E tutto il team Quest'anno Faremo pure Qualche gara d'europeo Per fare sempre esperienza E vedere più che altro A che livello Siamo messi E su dove Dobbiamo lavorare E niente Poi Per il resto Diamo il massimo E stiamo lavorando Ringrazio Poi il preparatore Atletico Che mi sta aiutando Molto Per farmi entrare In forma Insomma Per le prime prove Dell'italiano E tutta la stagione Sì Questo inizio di stagione È iniziato benissimo Non c'è da lamentarsi Sì Peccato per l'internazionale D'Italia Si poteva fare di meglio Ma va bene così Adesso Ci concentriamo E più sull'italiano E sul campionato europeo Che adesso Tra due settimane Comincerà la prima prova Di italiano Giù a Grottazzolina E subito dopo Sarà la prima di europeo In Svizzera Col team È già da un anno Sto qui Sto benissimo Mi trovo Bene Sia con le moto Che preparatore atletico Col coach Felici compagnoni Che è il numero uno È sempre top Questo è Per me Il secondo anno Praticamente Ho fatto sempre Scuola Ma partendo sempre Da zero È una bella esperienza Perché abbiamo preso Dei piloti Già Ben o male Formati Quindi C'è da lavorare Per arrivare A dei risultati Importanti Con la quale Sia con la SEVE Che con i piloti Riusciamo Sicuramente Ad ottenere Perché Stiamo facendo Un bel lavoro A me l'importante È che Comunque Si formi una bella squadra Riescono a avere Un bel rapporto Anche tra di loro E niente Comunque la squadra Sta lavorando bene Alfio Nella 125 Sta andando forte Giuseppe Sta lavorando Per migliorare Anche se è venuto Da un anno Un po' travagliato Però Penso che stiamo Facendo un bel lavoro Io sono arrivato Nel 2020 Mi baso sul mio livello Mi baso sul mio livello E niente Sia vedo che è un bel livello È un bel livello molto alto Sì sì Abbiamo comunque Decido di fare Questo campionato Proprio per Cercare di crescere E comunque Appunto Cercare di Far bene E soprattutto Migliorare Mi trovo bene Col team Con tutta la squadra Con l'allenatore E appunto Cerchiamo di fare Sicuramente Un buon campionato Regionale E poi Cercare di Migliorare Gara per gara All'italiano 100 T5 Segno